Troviamo a Palaenza a termine dell'allenamento con Alberto Bellini, schiacciatore del Conad Reggio Emilia. Ormai è più di un mese che è iniziata questa nuova avventura. Come sta procedendo la preparazione? Tutto bene, è stata una preparazione intensa con molte sedute di pesi. Adesso piano piano stiamo calando i volumi la mattina in sala pesi, quindi cominciano ad esserci le gambe un po' più sciolte. Anche in palestra viene tutto un po' più semplice, quindi penso che stiamo raggiungendo un buon livello di forma. Sabato andate a Fucecchio a giocare un torneo, un triangolare, contro una squadra di A2, Santa Croce, e una squadra di B, Fucecchio. Come vi siete preparati questa settimana? Il lavoro sicuramente in preparazione non si bada tanto alle partite che si devono affrontare, si concentra più sugli aspetti tecnico-tatici che dobbiamo cercare di migliorare noi, quindi stiamo continuando quel tipo di lavoro lì. Contro Santa Croce abbiamo già fatto un amichevole, quindi vediamo chi è migliorato di più rispetto al primo incontro. Ci troviamo a Pallaenza con Alberto Panciroli, secondo allenatore del Conad Reggio Emilia. Prima esperienza in A2, già trascorso più di un mese dall'inizio della preparazione, come vedi questo nuovo organico? Vedo un gruppo ben predisposto al lavoro, abbiamo lavorato tantissimo, l'atteggiamento è fattivo e secondo me la strada intraprese è quella giusta. Sabato andate a Fucecchio a fare un torneo, un triangolare, e come è strutturato questo torneo? Sono tre squadre, oltre a Fucecchio che sono i padroni di casa e organizzano questo Memorial Tozzi Day, ci saranno anche i lupi di Santa Croce, saranno quindi due incontri, tutti gli incontri saranno con tre set obbligatori e ogni set vinto assegnerà un punto per la classifica finale. Questa settimana su cosa avete lavorato? Cioè preparato la partita? No, ancora non abbiamo preparato nello specifico l'incontro con gli avversari, stiamo lavorando molto da questa parte della rete, stiamo lavorando sulla correlazione muro difesa, dopo più di un mese che abbiamo tolto la ruggine e lavorato sulla fase side out.